Notizie dalla Russia Causa le cattive condizioni atmosferiche nella tarda mattinata dell'8 giugno il comando, valutata la situazione, ha deciso che non si poteva tornare indietro Tutta la complessa macchina bellica è ormai in movimento L'arrivo di altre divisioni potrà contribuire utilmente alla grossa operazione militare in corso Andiamo a casa Libre che c'è? Andiamo Il comando tedesco intanto per poter rendere più sicuro il successo ha deciso di associarsi all'inizio Libre ti voglio bene Perché non parla degli scarpi di cartone? E delle migliaia di soldati che crepano congelati, eh? Non state perfettili Silenzio Il morale delle truppe è altissimo Il cameratismo fra le truppe dell'asse è fiducioso nell'immancabile vittoria Il camerate Ricciardo, mi dà il voltastomaco? Sì, sta libera Silenzio Silenzio, buonasera Ehi, voi Cammini, cammini Vorreste ripetere quello che avete detto? Perché vuole il bis? Che facciamo? Signora, per favore, signora, vada a vedere il film che è meglio Farò rapporto, sia certa Lo faccia Ma perché non si può neanche più criticare un film? Un film si può criticare Ma il film luce no